Il seguente esercizio consiste in questo, determinare le x che appartengono a n star, cioè l'insieme dei numeri naturali privati dello zero, tali che soddisfano la seguente equazione. Questo è il momento per fermare il video e dedicarsi alla risoluzione del seguente esercizio. Un modo per risolvere questo esercizio potrebbe essere quello di ridurre tutto quanto allo stesso denominatore, poi eliminare i denominatori e quindi dopo un po' di fatica si arriva sostanzialmente ad una equazione di terzo grado di questo tipo. meno 13x alla terza, meno 3x al quadrato, più 46x più 24, uguale a zero. Allora, siccome ci sono state chieste le soluzioni intere positive, è chiaro che possiamo applicare il teorema di Ruffini che dice sostanzialmente che le soluzioni razionali di questa equazione si ottengono prendendo i divisori di 24 dividendoli per i divisori di 13. Allora, siccome 24 e 13 non hanno fattori in comune, è chiaro che bisognerà prendere sostanzialmente tutti i divisori di 24 e provare ad inserirli nell'equazione, quindi i divisori di 24 sono chiaramente, i divisori, attenzione a noi ci interessano quelli positivi, saranno quindi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Quindi bisogna, per tentativi, provare 8 volt. Va bene? Questo è un metodo standard che naturalmente funziona sempre. Ecco, la domanda che ci poniamo è se esiste un metodo più veloce, e questo metodo sicuramente esiste. Perché? Perché il nostro obiettivo, come abbiamo capito, è risolvere questa equazione per tentativi senza dover fare una mole di calcolo. Per esempio, nel primo metodo che abbiamo presentato, occorre fare di fatto una mole di calcolo, perché occorre prendere questi otto numeri, inserirli, diciamo, in questa equazione e vedere quale di questi la rende soddisfatta. Allora, adesso cerchiamo di costruire un metodo che riduce, diciamo, il numero delle soluzioni intere positive candidate ad essere proprio le soluzioni di questa equazione. Allora, osserviamo che 1 su x più 1 su x più 1 su x è sicuramente maggiore di 13 dodicesimi. E questo determina sicuramente una maggiorazione della x. Allora, con un po' di conti si vede che 36 dodicesimi risulta essere maggiore di x. Va bene? Allora, prova a ottenere un'altra maggiorazione per la x. Questo è un numero che risulta essere superiore ad x. Riusciamo a trovare un numero che risulta essere minore di x? Allora, se ci pensate bene, a rigore non serve, diciamo, trovare questo numero. Va bene? In realtà noi lo possiamo trovare mettendo 1 fratto x più 2 più 1 fratto x più 2 più 1 fratto x più 2 minore chiaramente di 13 dodicesimi, che equivale a dire che 36 tredicesimi meno 2 è minore di x. Però attenzione, se noi andiamo a fare 36 tredicesimi, 36 tredicesimi è 2,7 e la x dovendo essere un intero positivo non potrà che essere che 1 o 2. Quindi, sostanzialmente, questa limitazione dal basso, cioè 36 tredicesimi meno 2 minore di x, potrebbe anche non semplificarci il conto. Riassumendo, noi abbiamo trovato che la x deve soddisfare questa disuguaglianza. Questo ci porta a dire che la x non potrà che essere che 1 e 2. Quindi, sostanzialmente, andiamo a mettere 1 in questa equazione e vediamo che 1 non va bene, non soddisfa questa equazione. Poi, andiamo a mettere 2 e vediamo che 2 soddisfa questa equazione. Quindi, x uguale a 2 è sicuramente soluzione di questa equazione.